Grande successo all'Istituto Tecnico Superiore Efficienza Energetica all'ITS dell'Aquila per i due nuovi corsi gratuiti regionali, ai quali sono stati ammessi in totale 60 studenti che sono stati selezionati tra 75 candidati. I corsi sono iniziati il 30 ottobre e sono completamente gratuiti e riservati a diplomati e laureati per i quali sono previste anche delle borse di studio e il rimborso spese per gli studenti fuori sede. Si tratta di corsi riconosciuti anche dalla Regione Abruzzo e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. I percorsi formativi riguardano l'area tecnologica dell'efficienza energetica e rilasciano le qualifiche di Tecnico Superiore per la Gestione e la Verifica di Impianti Energetici e Tecnico Superiore 4.0 per il Risparmio Energetico nella Smart Building. Siamo molto soddisfatti. Oggi l'ITS diventa una delle realtà più importanti in Abruzzo dal punto di vista formativo nel settore dell'efficienza energetica. Abbiamo raggiunto il numero massimo di iscritti, anzi abbiamo dovuto incrementare i posti. Proprio per la grande risposta dei giovani, ha dichiarato il direttore dell'ITS dell'Aquila Carlo Imperatore. La durata è di 2.000 ore, 1.200 di attività d'aula o laboratorio e 700 ore di stage presso aziende del settore che operano in Italia e all'estero. L'obiettivo dell'ITS infatti è quello di formare tecnici in grado di inserirsi nei settori strategici del sistema economico e produttivo all'interno del paese ma anche all'estero e secondo dati statistici, 9 giovani su 10 entrano nel mondo del lavoro entro un anno dal termine di questa esperienza. Si è detta molto soddisfatta anche Daniela Levi, coordinatrice didattica dell'ITS. Il primo bilancio è sicuramente molto positivo. Quest'anno, per la prima volta detto grazie anche alla promozione dell'istruzione terziaria non universitaria abbiamo avuto 75 richieste di partecipazione alle prove pre-selettive. In una città ancora alle prese con la ricostruzione dopo il sisma del 6 aprile 2009 ma anche a livello nazionale questo tipo di istruzione permette ai ragazzi di sfruttare un diploma che ad un passo dalla laurea triennale professionalizzanti, ha detto la Levi. Stiamo contribuendo alla formazione di quei tecnici altamente specializzati che in tutta Italia sono molto richiesti dalle aziende. Dando ai nostri studenti ha aggiunto alta professionalità e competenze subito spendibili nel mondo del lavoro anche a livello europeo.